L'altro giorno stavo personalizzando il mio Huawei P10 con la guida che ho realizzato qualche settimana fa per nuova launcher che trasforma ogni smartphone Android in un pixel e poi mi sono detto posso trovare qualcosa di diverso, ho navigato un po' su internet, ho trovato un launcher che adesso risulta essere il mio nuovo launcher preferito, si chiama Heavy Launcher ed è davvero interessante perché è molto leggero, fa risparmiare batteria e soprattutto permette di accedere alle proprie informazioni letteralmente in un istante. Se volete sapere più su Heavy Launcher non vi rimane altro che continuare a guardare questo video, iscrivetevi però al canale se già non l'avete fatto e soprattutto se volete sentire ancora parlare di Android e personalizzazione sapete già che cosa fare. Ebbene sì, la prima cosa che ho apprezzato di Heavy Launcher è il fatto che ha un aspetto molto minimal, molto semplice e che ricorda sì da una parte Nova Launcher ma anche qualcosa di più originale e un pochino più fresco. La cosa che mi piace di più è il fatto che possa essere molto personalizzato nell'aspetto, è completamente gratuito e ad oggi non offre nessuna opzione pro né versioni con pubblicità e quindi è veramente un'applicazione che secondo me dovete assolutamente provare, vi lascio il link per scaricarla in descrizione qua sotto. Nella parte superiore del launcher troviamo la barra di ricerca alla quale possiamo accedere anche facendo un piccolo swipe dall'alto verso il basso e troveremo anche i risultati recenti delle nostre ultime ricerche e delle app a cui abbiamo fatto accesso. Nella parte inferiore invece possiamo scegliere di avere tutte le applicazioni con eventualmente una doc di app fisse e poi possiamo ovviamente scorrere fra più pagine, io preferisco come sempre un approccio a pagina singola. Facendo uno swipe dal basso verso l'alto accediamo alla lista delle applicazioni ed è qui che ho veramente apprezzato tantissimo Heavy Launcher perché possiamo scegliere fra due layout e cambiarli al volo, classico layout a icone quindi a griglia molto canonico molto stile android oppure un layout a lista che secondo me risulta essere velocissimo per trovare le applicazioni e davvero molto molto intelligente perché nella parte destra dello schermo è presente una serie di shortcut a lettere che permettono di passare al volo da una categoria all'altra, da un'applicazione all'altra senza dover impazzire con la ricerca e quindi riesco a trovare veramente le applicazioni in un istante. Heavy Launcher la cosa interessante è che supporta nelle sue impostazioni tantissimi settaggi che permettono di personalizzare l'aspetto estetico del launcher in un nanosecondo dal numero di colonne al numero di righe agli icon pack e quindi ancora una volta ho reinstallato lo stesso icon pack della guida che ho realizzato qualche settimana fa, supporta i badge per le notifiche non lette che secondo me sono comodissimi per vedere al volo se ci siamo dimenticati di rispondere a qualcuno o qualche messaggio, supporta delle gesture che secondo me verranno ancora di più migliorate nel corso delle prossime settimane ma non secondo me c'è proprio scritto coming soon e soprattutto la ricerca ha anche un'interfaccia personalizzata quando andiamo a fare la ricerca di qualcosa non compare il classico Google spesso ma compare un'interfaccia custom di Heavy Launcher l'unica critica che si può andare a fare a questa applicazione per ora è il fatto che non essendo tradotta in italiano ma è semplicissima da utilizzare ovviamente alcune opzioni soprattutto quelle legate alla ricerca non sono funzionanti quanto dovrebbero e quindi talvolta la ricerca non dà i risultati sperati però secondo me tempo qualche settimana e lo sviluppatore aggiornerà Heavy Launcher in modo tale da renderlo adatto anche al nostro paese insomma vi ho voluto parlare di questo launcher perché secondo me risulta essere uno dei migliori assolutamente nella categoria dei launcher in queste settimane è molto leggero e quindi nel momento in cui lo utilizziamo non appresenterete il telefono e soprattutto avrete anche un piccolo risparmio di batteria se venite da un launcher molto pesante è molto molto personalizzabile e soprattutto completamente gratuito che è sempre un aspetto apprezzabile di qualsiasi applicazione come sempre continuate a seguire qui sul canale RedBall Tecnologia iscrivetevi se già non l'avete fatto lasciate un like a questo video seguitici sui social ovviamente c'è il box dei commenti qua sotto se volete fare una qualsiasi domanda per RedBall.com Andrea Ricci Grazie 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 Grazie.